Siamo contentissimi di essere qua e di poter portare avanti questo movimento anche in questo ambiente. Abbiamo visto che ci sono personaggi veramente importanti nel mondo dello sport e noi siamo fieri di partecipare come movimento del movimento paralimpico. Nello sport paralimpico è uno sport che diciamo non è così conosciuto ancora che si sta evolvendo e quindi questo sicuramente gli dà quella genuità che ci piace. Noi tra atleti gareggiamo veramente a livelli altissimi e però c'è sempre quella competizione sana e poi il bello è proprio che gareggiando noi nella categoria visual imperdo e quindi nello scialpino io con un'ipovisione ho bisogno di qualcuno che mi guidi e quindi c'è proprio la seconda figura che è quella della guida che in questo caso è rappresentata da Andrea. Il lavoro sporco lo faccio io e quindi è proprio bello.